Dopo quasi quattro anni, cambia la gestione per il centro diurno integrato La Casa del Sorriso di Mezzago, ora affidata alla cooperativa sociale San Nicolò. Si chiude così una questione rimasta calda, soprattutto sul piano politico, nel comune Brianzolo. Dopo il no degli ex concessionari a un'ulteriore proroga della gestione, divenuta insostenibile sul piano economico, oltre alla scadenza di fine marzo e fino alla conclusione della gara, il servizio ha rischiato di essere sospeso temporaneamente con lo spostamento di cinque ospiti alla struttura di Ronco Briantino. Poi la successiva interlocuzione con ATS ha confermato l'attività per i mesi mancanti, per rispettare gli obblighi della normativa regionale di accreditamento. Ora un nuovo inizio per il centro. Il mantenimento del servizio in questi mesi è stato un successo non scontato. Devo ringraziare anche ATS per il loro supporto. Una nuova gestione con la cooperativa San Nicolò, giudicataria della gara, che parte sotto il segno di un ampliamento del servizio. Sono partiti martedì i primi lavori di manutenzione della struttura, pronte a riaprire con i nuovi gestori da settimana prossima, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.00. Un centro di urno integrato che potrà fornire servizi aggiuntivi fino a un massimo di 20 ospiti. Dalle figure professionali qualificate presenti ai quattro pasti aggiornata con la novità della cena, dal servizio di trasporto offerto all'aiuto al pasto, alla deambulazione e al bagno assistito. Ho visto entusiasmo da parte di questa cooperativa, professionalità e positività. Dal canto nostro abbiamo introdotto elementi di sostenibilità all'interno della concessione. Ad esempio il canone concessorio è stato reso variabile in funzione dell'effettiva utilizzo e frequentazione del centro di urno. E questo anche dal punto di vista di una cooperativa ben strutturata come la San Nicolò ha portato ad avere la giudicazione della gara.